Se c'è qualche cane, si chiama Ciova Ciova, io lo vedo, e poi scusa, se tu lo vedo di presenza, io lo vedo. Se c'è qualche Fanz che ha qualche cane, mi telefona, ci vediamo, io lo guardo di presenza ed eventualmente me lo prendo. E me lo prendo, ma io lo prendo, mi prendo, mi prendo, mi prendo, mi prendo, mi muzzica, perché poi mi dice, ma quei chissà l'ammalo, che su Ciova Ciova Ciova. L'importante è che sia un cane calmo, perché se mi vede di presenza e si arrabbia, dice chi è questa, e poi mi graffia, mi morde questo cane Ciova, per cui... Perché come oggi, oramai hanno tutti l'ammalo, i cani, i gatti, ma ce ne... Perché al giorno d'oggi ce l'hanno tutti gli animali domestici, ce ne sono molti. Perché io mi scanto, chi mi può muzzicare, chi mi può cionare... Grazie. 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 Grazie.